Il Bari non regala una vittoria per i suoi 50 anni a Michele Mignani, come richiesto invece dall'allenatore nel giorno dell'esordio in Supercoppa di Serie C. Al San Nicola passa in rimonta il Suttirol che la vince con le sostituzioni. Decolle e Casiraghi firmano la rimonta sul vantaggio di Derrico. Le formazioni, Mignani, privo di botta e Puccino cambia rispetto al K.O. contro il Palermo. Fuori Frattali, Terranova, Mazzotta, Scavone, Botte e Antenucci. Dentro Polverino, Gigliotti, Ricci, Maita, Derrico e Simeri. Suttirol che Fattor 9 rimporta con Meli per Poluzzi e in attacco, Panchina per Casiraghi o Dogu, Chance per Fischnaller e Galuppini. Gli ospiti partono con grande velocità nella fase offensiva. Ci prova Galuppini dai 25 metri sinistro sul fondo. Dopo un avvio a ritmi elevati la partita vive di fiammate. Una di queste è griffata a Fischnaller. Il numero 11 ospite si coordina e calcia. La deviazione di Gigliotti spedisce il pallone sul palo a Polverino battuto. Dall'altro lato la reazione è griffata a Simeri. Il centravanti arriva al limite dell'area sfida a Zaro e calcia a giro. Conclusione sul fondo. Antipasto al vantaggio del Bari. Lo firma Derrico che fa tutto da solo. Mette a sedere due avversari al limite dell'area e calcia. Destro, forte e radente che batte Meli. 1-0. Ultima emozione di un primo tempo che si chiude sull'1-0 e tra gli applausi dei 5.043 presenti al San Nicola. Si riparte con o Dogu per Fischnaller al centro dell'attacco del Suttirol. Moscati fa tremare la traversa di Polverino dopo tre minuti su calcio di punizione. Poi al quinto De Col trova un euro-goal. Interviene sul tocco di rovere di mezzo esterno. Lascia di sasso Polverino. 1-1. È tutto da rifare per il Bari. Colpiti, i padroni di casa reagiscono. La chance al nono. Ricci scava un solco a sinistra e inventa per Maita. Rigore in movimento. Alto. Proteste del Bari al decimo che dira sterza in area e va all'impatto con Zaro. Per l'arbitro Scarpa. Tutto regolare. Cambia Mignani all'ora di gioco. Paponi prende il posto di Simeri. Chance capitale. Qualche minuto dopo per Vintò che riceve lo scavetto di Moscati e si presenta tutto solo davanti a Polverino. Pallone clamorosamente sul fondo. Javorcic lancia nella mischia Gatto e Casiraghi. È l'anteprima del 2-1 che arriva al 72esimo. Delizioso. Il destro al volo di Casiraghi che raccoglie un cross e in girata batte Polverino. Sorpasso. Suttiro il meritato dopo un gran secondo tempo. Mignani allora tenta il tutto per tutto con Antenucci e Galano perché dire Maita. Proprio Antenucci è il protagonista del finale. Prima il suo sinistro a giro trova gli ottimi guantoni di Meli. Poi non è della giusta misura per far male all'ingresso in area. È 1-2 al San Nicola. Al tramonto della partita arriva anche qualche fischio dai 5.043 presenti sugli spalti. La stagione del Bari si chiuderà a Modena sabato 7 maggio in gara 2 di Supercoppa.